Non so se si può togliere questa comunque, cioè penso che si potrà alleviare perché è troppo rossa, ma dal vivo non è così rossa Tipo, con la luce la vedete mega rossa, è pure così è rossa, in camera è super rossa, ho detto rossa? Però tipo dal vivo non è... Indovinate chi era?